Il coronavirus ha penalizzato anche molti fedeli, perché tra le norme precauzionali imposte dall'ordinanza corrente c'è anche la sospensione dalle funzioni religiose, per evitare il raggruppamento di tante persone in un luogo chiuso. Per fortuna c'è la tecnologia e i parroci, sempre più smart, si stanno adeguando, come Don Luca Loveda, che gestisce le parrocchie di Inverno, Gerenzago e Monteleone, che oggi ha fatto la sua prima diretta Facebook. Come è andato questo esperimento? È andata molto bene, devo ringraziare i miei ragazzi del gruppo Germoin, che sono degli ottimi tecnici delle telecomunicazioni e così siamo riusciti a entrare nelle case di tanti amici che hanno il mio profilo. Poi farò avere anche coloro che non hanno Facebook le parole della mia omelia. Insomma, in questo modo siamo vicini a tutte le persone ed entriamo nelle loro case dando una parola sicuramente la forza della preghiera e sempre il senso dell'amicizia. Don Luca, sei conosciuto come il prete dei giovani, perché per avvicinarti a loro sei stato uno dei primi, se non il primo, qui in provincia di Pavia a utilizzare l'elemento social. Beh, sì, ho iniziato ormai nel 2008-2009. È sempre stato un strumento particolarmente prezioso, si è usato bene, perché si è in contatto con tante persone, si rimane in contatto nonostante gli spostamenti, si può far trasmettere un messaggio sempre di positivo, di compagnia, di aiuto, di sostegno e in alcune situazioni come quelle di emergenza poi, come si vede, può addirittura diventare un canale di trasmissione mai pensato, ecco, mai avremmo pensato di avere un'emergenza di questo genere e di arrivare a trasmettere la messa attraverso i social. Eppure lo fanno, lo fanno diversi vescovi, anche il nostro vescovo, gli nostri sacerdoti e quindi è uno strumento che si è usato bene a grandissime potenzialità. Ultima cosa, in questi giorni, sempre per via di questo virus che ha spaventato un po' tutti, si sono creati dei fenomeni sgradevoli, è stato alimentato in tutta Italia, un clima di odio, di paura. Vogliamo mandare un messaggio positivo? Ma sicuramente, l'ho detto anche nella omelia che ho trasmesso prima in diretta. Serve una critica in meno e un atto di responsabilità in più e di collaborazione in più. Se ognuno fa bene il suo, senza dover per forza sempre mettere in discussione, sempre alimentare polemiche, sempre criticare, ognuno fa il suo, con competenza, chi ha responsabilità per primo, genera innanzitutto un clima di fiducia e un clima di collaborazione, soprattutto verso coloro che vivono l'emergenza in prima linea, i medici, i ricercatori, le forze dell'ordine, coloro che sono dentro nella zona rossa. Ecco, è importante un po' rasserenare l'ambiente, è sicuramente un'emergenza sanitaria, è un qualcosa che non capiamo fino in fondo, abbiamo gli strumenti per poter sicuramente affrontarli, però ognuno deve fare il suo consenso civico e di responsabilità. Ecco, siamo insofferenti alle regole e pensiamo di avere tutte le libertà possibili. Non è così, ci sono delle regole, si possono anche davvero contestare d'accordo, però ci sono, le viviamo e ci auguriamo che queste regole possano aiutarci. Io credo che sia fondamentale. Una critica in meno e un atto di responsabilità e di collaborazione in più. Grazie Don Luca. Grazie a te.